Domani Nuoro e la Diocesi festeggiano la Patrona, Santa Maria della Neve. In questi giorni la cattedrale ha ospitato i riti della Novena, che hanno visto la partecipazione di tanti fedeli, spesso provenienti dalle parrocchie del circondario. Anche quest'anno, infatti, come da tradizione, l'animazione dei riti giornalieri della liturgia della Novena sono stati affidati a parrocchie di Nuoro e della Diocesi. Stasera è stata la volta di quella di Lodè, dedicata a Sant'Antonio da Padova. Come da programma è stato prima recitato il Rosario, successivamente è stata celebrata la Santa Messa, accompagnata dai canti del coro Ortobene. La liturgia si è conclusa con la Novena. Domani la chiesa cattedrale per tutta la giornata ospiterà, senza assoluzione di continuità, la Santa Messa in onore di Santa Maria della Neve. Si inizia alle 8 del mattino, mentre alle 10 verrà celebrata la Messa comunitaria, impreziosita dai canti del tenore Goine. A mezzogiorno in programma la Messa Capitolare, che vedrà i canti in limba del coro Nugo Ramada. Ma il culmine delle celebrazioni religiose si raggiungerà alle 19, con la celebrazione del solenne pontificale da parte del Vescovo di Nuoro, Monsignor Mosè Marcia, insieme al Capitolo e ai Sacerdoti della Diocesi. Alla conclusione della Messa, le vie del Rione saranno attraversate dalla processione mariana animata dalla confraternità di Santa Croce.